E' un K.O. Amaro e che soprattutto costa il terzo posto in classifica. In casa FMC arriva la seconda sconfitta di fila a Ponte Grande. I ragazzi di Gramenzi cadono infatti contro Casal Pusterlingo dell'ex Carrizzo per 78-95. Lo stesso Carrizzo, storico capitano di Ferentino, prima del match è stato premiato sia dal Patron Ficchi sia dai tifosi Amarando. Tornando alla gara, Gramenzi contro Casal Pusterlingo può contare sull'arientro di Bucci dopo l'infortunio, ma che sia un match complicato lo si intuisce da subito. Gli ospiti infatti partono benissimo e a metà del primo quarto arrivano ad avere dieci lunghezze di vantaggio. Gli Amarando invece soffrono molto in difesa. Ferentino comunque prova a rimanere aggrappato agli avversari che però chiudono il primo parziale in vantaggio sul 21-32. Nel secondo periodo Casal Pusterlingo si conferma in serata più che positiva e arriva ad un nuovo massimo vantaggio, 21-37 al dodicesimo. La FMC in questa fase continua a faticare molto in difesa, sul finire del secondo parziale però la gara si infiamma. Ferentino infatti produce il suo massimo sforzo e con all'odi al diciottesimo si porta sul 42-48. Le due squadre vanno poi a riposo lungo sul 46-54. Nel terzo periodo aumenta l'intensità della FMC e al ventitresimo è 56-60. Gli ospiti però a questo punto ricominciano a macinare gioco e soprattutto punti. Ed è in questa fase che Casal Pusterlingo scava il solco decisivo del match. Carrizzo e compagni si portano sul più 16 del 62-78. La FMC da par suo continua a sbagliare dal perimetro e gli ospiti allora chiudono il terzo parziale saldamente al comando per 64-81. Il match ormai è segnato. Nell'ultimo quarto Casal Pusterlingo arriva al più 20 del 68-88 al 34esimo. Ferentino non ne ha più, finisce così 78-95. Casal Pusterlingo vince in maniera meritata, Ferentino si lecca le ferite e sabato in anticipo sarà di scena sul parchè della capolista Brescia.